C.C. Look, Cleonice Capece Look. Il C.C. Look, che contraddistingue le collezioni presentate nei primi anni 70, nasce nel 1969, quando Cleonice Capece realizza una spilla con una grande C in metallo dorato da fare indossare alle venditrici dell'atelier. La prima collezione C.C. Look, autunno-inverno 1969-70, è caratterizzata da abiti da giorno dalle linee semplici in triple crepe bianco e nero, tweed e principe di Galles. Nella primavera del 1971, con lo slogan Un morbido invito all'estate, viene presentato il Soft Look. La particolarità di questa collezione è quella di declinare lo stesso disegno, una stampa a pois in negativo positivo, in diversi colori e tessuti. L'icra per i costumi da bagno, twill di seta per i caftani, chiffon di seta per gli abiti da sera. La collezione, poi rinominata Galaxy of Poix, riscuote grande successo e viene presentata, oltre che a Firenze, a Parigi, Londra, Copenhagen e Monaco.